Dopo il Natale a risparmio energetico, il Comune di Arezzo, per far fronte al caro bollette, taglia anche sulla luce di parchi e lampioni. Il tema dei rincari è stato infatti affrontato nell'ultimo Consiglio Comunale Cittadino. A spiegare le misure che l'amministrazione intende adottare per risparmiare sulla bolletta della luce è stato l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti. Per quanto riguarda l'azione del breve termine, pensiamo di mettere in atto una serie di interventi, ritardo nell'accensione e spegnimento anticipato della pubblica illuminazione. Stiamo ragionando su ipotesi che si basano sul costo attuale dell'energia elettrica. Se questo dovesse diminuire nel 2023, come sembra profilarsi e come auspichiamo, rivedremo eventualmente le misure. Consideriamo che ogni ora al giorno in meno di lampioni accesi porta circa 100.000 euro di risparmio annuale. Poi prevediamo lo spegnimento a mezzanotte dei parchi pubblici recintati, lo smart working, il venerdì per una parte di dipendenti pubblici, il co-working e la sensibilizzazione sui comportamenti corretti da seguire. Sul lungo periodo, prosegue Sacchetti, ci sono le previsioni del piano d'azione per l'energia sostenibile e se guardiamo all'orizzonte del 2028 contiamo che i consumi termici del patrimonio immobiliare comunale possano diminuire del 10-12% e quelli elettrici del 18%. Ci sono poi le comunità energetiche sulle quali crediamo partendo proprio dal basso, dalla comunità conclude prima che dall'energia e credo che ci siano le condizioni congiunturali favorevoli.